I polemiche non credo che ci siano state da parte nostra, piena disponibilità, apertura e anzi approfitto per fare gli auguri in bocca al lupo alla nuova gestione del teatro comunale. Noi semplicemente continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè le nostre stagioni, la stagione dei concerti, la stagione di prosa che avrà naturalmente una continuità naturale nel 2017-2018. Il nostro direttore artistico sta lavorando proprio a questo e quindi siamo convintissimi che la prossima stagione di prosa sarà anche una stagione di qualità e di grande successo. Comunque l'importante è fare chiarezza e cioè che la Riccitelli farà la sua stagione di prosa 2017-2018 al teatro comunale di Teramo, come mi ha assicurato telefonicamente il sindaco due giorni fa, e che gli abbonati, i vecchi abbonati dovranno esercitare il loro diritto di predazione dal 19 aprile al 26 maggio nella sede della Riccitelli. Grazie. Grazie a tutti.